Adere in punto farm è una piattaforma che in realtà non finisce mai, vale a dire inizia con dei quattro corsi fondamentali per quanto riguarda l'accademia della salute della vacca e del benessere degli animali, in realtà prosegue con dei corsi molto più specialistici. Sono 12 sezioni, 12 sezioni verticali di questa piramide, una accostata all'altra. La piramide costituisce la university, chiamiamola così, l'insieme di tutte le competenze. Chiaramente abbiamo deciso di pubblicare soltanto i quattro corsi fondamentali, i primi, Vitellaia, Riproduzione e Produzione, Sanità, Mammaria e Qualità del Latte e Progettazione di Stala Redutizia e Funzionale perché questi sono quelli fondanti, sono quelli propedeutici a capire tutti gli altri corsi. Quindi bisogna partire da lì.